Ciao a tutti ed eccomi qui con un nuovo video tutorial. Allora oggi vi farò vedere come realizzare dei portaconfetti in modo super veloce, direi molto molto semplice e anche spendendo relativamente poco. Quindi magari sono adatti sia quando siano magari tanti amici, colleghi, soprattutto magari anche per le lauree, oppure anche da allegare a delle bomboniere tipo, non so se decidete di fare delle bomboniere alimentari come l'olio, come il vino, andranno benissimo anche da allegare al collo della bottiglia. Allora vi faccio vedere, sono dei tubicini di confetti avvolti in tulle con il fiocco e la decorazione. Logicamente poi si possono fare per qualsiasi occasione, battesimi, lauree, nozze d'oro, compleanni anche magari diciottesimi, si possono applicare gessetti, si può anche applicare nulla magari in questo caso qua se lo volete allegare alla bomboniera stessa. Insomma ci si può sbizzarrire negli abbinamenti di colore e nelle applicazioni. Bene, partiamo subito. Vi faccio vedere come procedere. Innanzitutto vi servono le bustine alimentari per i confetti. Io uso quella con la patella adesiva, quindi si chiudono da sole, potete utilizzare anche quelle senza. Cinque confetti, li inseriamo all'interno della bustina. Uno sopra l'altro, poi li andiamo a sistemare anche alla fine, non importa. Eccoci qua. Benissimo. Allora, tolgo la patella in modo che si chiuda con l'adesivo, chiudo la mia bustina, abbasso i confetti in modo che vengano in fila, ripiego il sacchettino perché è largo, perché i sacchettini questi qui non li fanno a misura stretta dei confetti, perché poi logicamente c'è il confetto alla mandorla che è più stretto e piccolo, c'è il confetto ripieno che è più grosso e cicciotto, quindi ecco. Blocchiamo con un pezzetto di scotch e abbiamo creato la nostra bustina con i confetti in fila. Secondo passaggio. Vi serve 35 cm di tulle. E nota bene, se utilizzate confetti piccoli, tipo la mandorla classica, la bustina servirà più piccolina e servirà un po' meno di tulle. Bene. Posizioniamo il nostro sacchettino a rovescio, quindi con lo scotch in alto, a tre quarti del nostro tulle. Adesso andiamo ad arrotolarle, in questo modo qui. E adesso, tenendolo per uno dei capi, pieghiamo il tulle in questo modo che arrivi dall'altro capo. Bene, abbiamo già creato il nostro tubicino di confetti. Ora andremo a legarlo. Io utilizzo un rasetto fino, circa 60 cm. Allora, facciamo doppio nodo in modo che tenga fermo. Poi il tulle lo andiamo a rifilare dopo. Ecco qui, apriamo i due ciuffetti. Adesso io ho pensato di staccare con un po' di juta 8 cm, chiara, bianca. Allora, questa è la juta a metro. Vi faccio vedere il rotolo. Eccolo qui. Io ho tagliato 8 cm, ma invece di utilizzarla nell'altezza in cui è nel rotolo, la utilizziamo nell'altro senso. In questo modo qui. Andiamo a piegarla in centro per creare una piccola farfallina e la vado ad annodare utilizzando sempre il raso fino rosso e facendo due nodi. Ecco qui. In questo caso qua voglio staccare dal rosso e quindi ho scelto il bianco. Secondo fiocchetto, raso un po' più largo, circa 40 cm. Vado a crearmi la mia asola al volo, in questo modo qui. E vado ad annodarmela sempre utilizzando il rasetto fino e facendo due nodi. Ecco qui. Bene. Rifiliamo un attimo il nostro tool, anche se quasi non ce n'è di bisogno. Perfetto. Passiamo alla decorazione a bigliettino. Quindi questo è pensato per una laurea. Prendete il vostro bigliettino, insomma, forato. Passatelo nel nastrino fino, nel capo quello a destra. Inserite, fate uscire e fate un nodo. Ecco qui. Il vostro bigliettino sarà così, lateralmente a destra. Per la decorazione invece ho pensato, allora, ad una fogliolina. Eccoci qui. Prendiamo la matita e creiamo il ricciolo, attorcigliando il ferretto della foglia sulla matita stessa. Sfiliamo la matita ed abbiamo creato il nostro riccio. Ora andiamo a fare un altro nodo. Praticamente, sono sempre nodi, ecco. È molto semplice. Che magari, non sapendolo o vedendolo così, sembrano super mega complicati certi fiocchi. Alla fine invece sono solo vari pezzi assemblati attraverso nodi. Bene, abbiamo posizionato la nostra foglia, poi magari il riccio lo mettiamo di là per far vedere bene il bigliettino. Facciamo l'ultima asola con il nastrino fino. Quindi facciamo il nostro fiocchetto. Tiriamo bene. Ecco. Adesso per coprire il nodino io ho pensato di incollare una cucinella a porta fortuna. Ecco qui. Quindi le cucinelle, queste qua di legno, hanno già il biadesivo, però sui nastri non tiene proprio nulla. Tiene sulla carta cartoncino. Togliamo la pellicolina in modo da avere il biadesivo libero. Mettiamo una goccia di colla a caldo e lo andiamo ad applicare sul nodino nel verso della foglia. Ecco qua. Ora andiamo a rifilare i nostri nastrini, accorciandoli un po'. E il nostro portaconfetti è già pronto. Semplicissimo, velocissimo direi. Fa comunque una bellissima figura. Ecco, ripeto, da dare magari ad amici colleghi. E niente, vi potete sbizzarrire colori, ricorrenze e tutto quello che vi passa per la testa. Spero vi sia piaciuta la mia idea e alla prossima! A presto! Sì! Sì! Grazie.